Cresce in rete l'attesa per la Duyador e il Festival delle Sagre Astigiane. L'interesse per le due manifestazioni del settembre astigiano è confermato dai numeri di Facebook. Oltre 5.600 per la Duyador, erano circa 3.000 un anno fa, e ben 12.000 per il Festival delle Sagre, circa 8.000 nel 2012, fanno sapere dall'ufficio stampa. La mappa del villaggio gastronomico delle Sagre, postata su Facebook, è stata condivisa in pochissime ore da 44.000 persone. Numerosi sono gli stranieri che seguono e partecipano alla vita online degli eventi, e provengono principalmente da Stati Uniti, Gran Bretagna, Spagna, Germania, Australia, Svizzera, Francia, Brasile e Argentina. Singoli, in coppia, gruppi, in tanti stanno programmando il fine settimana nel Monferrato. Numerosissime le comitive attese da Lombardia e Liguria. Al Palazzo delle Nofile, invece, in occasione della Duyador, saranno 509 le etichette dei vini premiati al concorso nazionale, che saranno in degustazione e in vendita fino a domenica 15 settembre. Navigando su www.duyador.it, versione ottimizzata per i cellulari, si consulta l'elenco diviso per regioni, e di ogni vino premiato si può scoprire la storia, grazie al link con la cantina che lo produce. Molto attiva anche la partecipazione sui canali Twitter, dove è stato lanciato l'hashtag Duyador 2013. Per tutta la durata del salone, i visitatori potranno interagire con gli organizzatori, condividere foto e commenti sui vini, sui piatti degustati, sugli eventi culturali e musicali.